Siamo alla vigilia dei campionati giovanili, il settore giovanile dell'Arezzo come ci arriva? Il settore giovanile dell'Arezzo ha iniziato un percorso, speriamo il più lungo possibile, un percorso che da programma prevede 3, 4, 5 anni di attività che dovrebbero portare dei grandi frutti a questa società. Ovviamente per fare ciò serve una grande organizzazione, grandi competenze, professionalità e su questo stiamo lavorando. La scelta di allenatori e istruttori, su quale base sono state fatte? Pensiamo che siano fondamentali queste figure e probabilmente la loro funzione è quella determinante affinché i nostri ragazzi riescano a maturare nel giusto tempo e le migliori qualità. L'importanza dell'impianto sportivo per fare calcio giovanile a buon livello? Le strutture dovrebbero essere un fiore all'occhiello per tutte le società che dedicano tempo e passione al settore giovanile. L'Arezzo è già provvisto di ottime strutture e si sta attrezzando ancora meglio. Lei poi in prima persona segue la formazione Berretti, a questo punto del precampionato, la sua preparazione, della squadra. Noi secondo me abbiamo svolto un ottimo precampionato. Il nostro periodo preparatorio è stato caratterizzato da grande impegno da parte di tutti i ragazzi. È chiaro che abbiamo avuto nella prima fase di questo periodo preparatorio, come per tutte le altre squadre, un obiettivo principale, cioè quello della costruzione della rosa. Credo che siamo stati bravi a costruire una rosa funzionale al tipo di campionato che andremo ad affrontare. Non solo la Berretti, ma anche il campionato nazionale che interessa gli allievi e i giovanissimi è una vetrina importante per i ragazzi. A questi ragazzi lei cosa chiede? Ma ai ragazzi, come ai nostri tecnici, chiediamo sempre grande impegno, grande applicazione, spesso anche spirito di sacrificio, perché sia i ragazzi che gli istruttori a volte fanno tanti chilometri, escono da scuola e corrono a prendere un treno, oppure percorrono strade e chilometri per arrivare al campo. Quindi fondamentalmente un grande impegno e anche spirito di sacrificio. Tra circa una settimana inizia il campionato Beretti. Quali sono le sue aspettative e i suoi obiettivi? L'obiettivo principale è la maturazione di questi ragazzi. Consideriamo che loro sono alle soglie della prima squadra. Non dovrebbero essere considerati i ragazzi della Berretti ancora dei ragazzi, perché consideri che in prima squadra oggi giocano titolari e si distinguono per qualità tanti ragazzi come Basit, come Pinto, che hanno un anno, due anni in più dei nostri Berretti. Per cui l'obiettivo che ci poniamo oltre alla crescita dei ragazzi è quello di mettere in evidenza, metterli in vetrina affinché l'allenatore della prima squadra, ma anche altre società, possano osservarli ed eventualmente farci un pensierino per questa e la prossima stagione. Grazie e buon lavoro direttamente. Grazie anche a voi.